Anche quest'anno torna Stella in strada, qui il corso si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto e tantissimi chef, pasticceri, operatori del settore presenteranno i loro prodotti. Gli ischitani sono già in piazza, ha una bellissima atmosfera natalizia, sindaco. Allora Ischia ha una grande tradizione gastronomica e di pasticceria ed è bello poter avere lungo una delle strade più belle che abbiamo sul nostro territorio questa concentrazione che metta in mostra questa nostra virtù. Gli ischitani lo sanno, è usanza partecipare in massa a serate come queste e ci fa piacere anche perché vediamo lungo la strada molti visi di ospiti, di turisti che hanno scelto Ischia come meta dove trascurrano le loro vacanze. Si stanno organizzando, c'è fermento, nei vari stand ognuno sta preparando le prelibatezze che poi offriranno agli avventuri e sono sicuro che anche questa sera sarà una serata bella e di successo e che sarà ricordata con piacere e con favore. Non potevamo terminare e finire l'anno in maniera migliore e questo è il migliore auspicio per un 2024 felice, ricco di soddisfazioni, ricco di belle cose per tutti quanti noi. È un bellissimo percorso, parte dall'estasi fino ad arrivare alla dolce salsa, quindi tutto il corso. Tantissimi stand, ci saranno le pizze, i dolciumi, tanti tipi di specialità, primi piatti, secondi, bevande e l'enogastronomia. Ma Ischia ha anche una grande cultura vitivinicola e stasera ci sono anche delle importanti etichette che partecipano a questa iniziativa e noi per questo e di questo siamo particolarmente contenti e soddisfatti. Ci sarà anche musica ad alletare questa serata? È chiaro che poi dove c'è allegria c'è anche la musica, c'è anche un po' di atmosfera che si viene a generare, è un'atmosfera festosa. Ci sono tutti gli ingredienti per una serata veramente bella.